Dal cetriolo locale tarato da 20 a 50 centesimi al chilogrammo in base alla qualità, alla melanzana lunga da 30 a 50 centesimi sempre al chilo e ancora dal peperone cornetto verde da 30 centesimi a 1,30 euro al pomodoro tondo liscio verde da 50 centesimi a 1 euro. Per non parlare della zucchina verde chiara da 30 a 55 centesimi e del pomodoro rosso a grappolo da 30 centesimi a 1 euro. Sono alcuni dei prezzi contenuti in uno degli ultimi bollettini del mercato ortofrutticolo di Contrata Fanello Vittoria. Prezzi che, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, fanno registrare un leggero incremento. Se la campagna dell'anno scorso è stata fallimentare, quella del 2019, sino a febbraio, sembrava tutto sommato buona. Ma purtroppo adesso si prende atto che non è così. Si registra un'ulteriore caduta libera dei prezzi rispetto ai primi due mesi dell'anno, che comunque restano in generale in crescita del 30% se si fa un raffronto con il 2018. Questo però non mitica il quadro generale, perché non si riescono a coprire i costi della campagna agraria, né si riescono a recuperare le perdite del passato. Ne viene fuori una situazione complessiva a dir poco disastrosa, che spezza ancora di più le gambe ai produttori, incanalati in una situazione a dir poco critica, incapaci ormai di programmare nella maniera adeguata le campagne agrarie e di proteggersi dalle invasioni di prodotti stranieri che pullulano nei mercati regionali e nazionali. È idea liberale a denunciare il quadro deficitario e a sollecitare l'individuazione di rapide soluzioni che consentono di salvaguardare gli operatori del comparto, l'anello più debole di una catena. Se è vero come è vero, sottolinea il presidente di Idea Liberale Giuseppe Scuderi, che nei canali della grossa distribuzione delle regioni del centro e del nord questi prodotti si trovano con prezzi rincarati tre, forse quattro volte, significa che c'è qualcosa che non funziona, significa che occorre definire quando e come intervenire. Ecco perché arriva la proposta degli stati generali dell'agricoltura. C'è bisogno di fermarsi anche un solo giorno per comprendere dove stiamo andando e soprattutto per correggere le numerose distorsioni del sistema. Le proteste continuo a Scuderi funzionano fino a un certo punto e lo abbiamo visto in questi ultimi anni. C'è la necessità di rivedere tutto il sistema, di ripartire quasi da zero. Il bollettino prezzi del mercato di Fanello ci rivela che più in basso di così non si può arrivare. Siamo alla fase della disperazione, conclude Idea Liberale. Adesso bisogna trovare il sistema per cercare la risalita.